buonasera o qualsiasi altra parte del giorno sia mentre avete scelto di guardare questo video un altro mukbang tesori e tesore mie benvenuti o bentornate bentornati o benvenuti che cosa ci mangiamo un risotto per cambiare un po cipolla in realtà scaronietto perché sapete che Viola ci piace in ogni sua forma e ho messo il fake bacon del Carrefour di solito il risotto è grito cioè almeno io mi ricordo quando ero piccola mi facevano cipolla e pancetta questa è una rivisitazione una rivisitazione vegana e niente spero sia un po' a chiarello comincio a mangiare perché ho stravame tanto per cambiare mescolatina e assaggiamo intanto vi dico come l'ho fatto perché è cremoso e ve l'ho dimenticato di dire che è un risotto cremoso allora praticamente il fake bacon qua è buonissimo è proprio buono 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 so di so di patatina al bacon buono e quello l'ho soltanto messo nella padella che di solito sopravva essere la bistecchiera e l'ho fatto e l'ho cucinato poi il risotto ho fatto un soffrettino con la cipolla è buonissimo ci ho fatto un po' di pepe e il vino bianco la cipolla dicevo soffrettina con il vino bianco poi l'ho messo da parte in modo che non diventasse troppo molliccia perché la cipolla molliccia non mi piace la preferisco un po' indietro, un po' più cruda e per fare il risotto cremoso ho messo la mia solita base che uso in questi casi che praticamente è calda è tofu anacardi perché ormai grazie a uno di voi so come si chiamano tofu anacardi, un po' di limone, un pochettino di latte di soia frullo tutto e diventa questa cosa che poi messa è scaldata e sta cremosa e fa il riso e fa il riso proprio cremoso vi faccio vedere non so mangiare, non so più mangiare vediamo se riesco senza fare danno non so se si vedrà mai ma è cremoso mi piace tantissimo adesso cipolla e pancetta è una cosa bella della quale mi strafogavo da piccola sono stra contenta che lo posso ricreare comunque sono stra contenta e questo risotto è stra buono sono stra contenta che mi piacciono i capelli nuovi è ufficiale sto effettivamente andando a quel festival che vi stavo accendo quindi video, video, video intanto che mi preparo per andare poi la essendo un festival crime core non ci sarà molto da filmare per un video però posso magari filmare e togliere l'audio per farvi vedere un attimo la situazione così potete capire qualcosa in più di me vedendo anche dove vado quando lo sto registrando mi sembra una cosa carina da fare mi sembra un po' di me mi sembra un po' di me mi sembra un po' di me allora chi mi segue su Instagram sa che quando viaggio quando viaggio mi porto sempre una mascotte questa volta è già deciso assolutamente al festival grind core con me viene Angelica viene la bambola di Angelica però ecco l'incubo mio più grande sporcare la mia copertina non posso manco mangiare lo storiso perché ci saranno i gatti qua sopra sono super soddisfatta dicevo porto la bambola di Angelica però le voglio tingere i capelli che attaccare una toppa così più cioè nel senso mica mi acchitto solo io no? acchittiamo anche Angelica e penso che lo facciamo insieme pensavo ad un inaudible tanto 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 che la preparo per il feste un amore di piel non c'è non c'è lì voglio capire soia reidratata 81% olio di girasole sale aroma naturale ovviamente c'è qualche conservante ha pure no glutine ma wow ma è solo soia non ci posso credere pensavo sanno talmente tanto di patatini al bacon che pensavo ci fosse il dannato aroma di fumo invece no aroma naturale che cosa intenderanno? l'aroma di fumo è naturale? non penso sanno devo cercare l'ho fatto un po' l'ho fatto troppo adesso riesco farci il panino con questo tanto ah vabbè allora cacchio però che so che è buono il problema perché allora costa tantissimo costa 3 euro qualcosa io l'ho preso perché ovviamente qua in Francia non se lo cacca nessuno e quindi l'ho preso al 50% quindi 1 euro e 50 ci sta 2 euro c'è un po' però sono tante fette sono un sacco di fette in realtà pensavo molto meno ce n'è ancora 1,2,3,4,5,6,7 ne ho almeno 7,8 cioè io non so se avete sentito il rumore malottina ma che rumori fa quando dorme è troppo onomatopeica la mia gatta la mia amicetta dicevo ho ancora un sacco di fette posso farci un sacco di cose poi ora faccio un panino magari lo faccio un po' girato così perché questo è molto dritto il peccone non è così dritto però giusto perché anche l'occhio è la sua parte ma perché se no ma buone ma più buone 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 non è così dritto no non 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 sen Simon a 6 7 4 5 Sì, sono un po' di sottotitoli. E' male Affricchi il mess stasera Per mangiare un risotto Più quello che ho buttato in giro Di quello che ho effettivamente Stravocato Ma in realtà Guarda ho detto che ne ho fatto po' Cioè ho detto che ne ho fatto tanto Invece ne mangerei ancora Non stupido Tra un oretta ne mangerei ancora Ho avanzato proprio giusto un cucchiaio Non so se mangiarlo adesso Non so se mangiarlo adesso O mangiarlo dopo Andate a mangiarlo dopo Ma Io sono fisa comunque Forse è una buona cosa Perché vuol dire che state dormendo Però nessuno si è accorto Dell'editing Della fine del video C'è una cosa che Dovreste avere notato Comunque Come al solito Convenevoli Se il video vi è piaciuto Mettete un like Se vi è piaciuto Mettete un dislike L'importante Interagire con il video Cioè Di Strix Club E niente Restate fino alla fine del video Che c'è una donazione Rilassante Secondo me Buon riposo Buona qualsiasi altra parte Del giorno Assolutamente avete scelto Di guardare questo video Io cerco Di girare un inamo Tipo il già adesso Così già Acchitto Angelica E Ci vediamo in un altro video Ho pensato Ho pensato di Tingerle i capelli Dicevo Ho pensato di Tingerle i capelli Magari farle un po' Di trucchino E attaccarle una toppa Una toppa Che devo cercare Una toppa O magari chiedo al mio amico Tommy Di regalarmene Una toppa Che ci stia Sulla connellina La vaglietta Già Non era viola Era bianca L'ho fatta io Viola Non so se farle Anche il vestitino nero Non lo so Vediamo dopo Vediamo Che già Tra l'altro Non so chi Ma hanno tagliato I capelli Poverina E ora C'è più che Di scrausi Come il mio canale C'è più che 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 C'è più che